Amici di GenteVip, siamo con Ulrice Axe nel meraviglioso festival Sorridendo. Ulrice, ti conosciamo come cattiva, però tu hai un meraviglioso sorriso, sei bravissima e simpaticissima. Beh, grazie mille, che dire, essere accolta così fa sempre piacere. No, cattiva non sono, non più degli altri, ecco almeno. Senti, sappiamo che premierà qualcuno, possiamo già dire chi, o ancora è tutto segreto? Beh, no, non si può sapere, premierò il miglior attore, però ovviamente neanche io so chi è. Però, insomma, stiamo cercando di capire, perché ovviamente la curiosità è tanta. Senti, tantissima fiction, il cinema? Il cinema, ho finito da poco di girare un film che dovrebbe uscire a breve, con Nicoletta Romanov. È un'opera prima, è una commedia, sul sesso dopo il matrimonio. Ottimo! Ecco, io non so com'è, perché non sono sposata, il sesso dopo i figli, ma in realtà. Quindi sono esperienze che io non conosco, però, insomma, non lascia presagire niente di buono. Senti, è un festival dedicato al sorriso, l'importanza di sorridere, soprattutto oggi? Il sorriso, devo dire che oggi, forse è l'unica cosa che c'è rimasta, proprio per essere pessimisti. Però è fondamentale, è fondamentale in tutto, è fondamentale quando si fanno anche le terapie per le persone malate. Bisogna cercare, in qualche modo, di respirare la vita, anche quando questa non c'è. E questo è anche un festival in onore delle diversità, in tutte le sue forme. Una diversità non è per forza un handicap, ma diversità intesa come moltitudine, normalità, perché siamo tutti diversi, anche se siamo convinti e fingiamo di essere uguali. Quindi, grazie Ludice, bocca al lupo per il credito.